Abbiamo celebrato nelle ultime ore la giornata contro la violenza sulle donne e naturalmente il diavolo ci ha messo la sua zampina e quindi ci siamo ritrovati in mezzo a una polemica per la trasmissione televisiva Detto Fatto condotta dalla bellissima Bianca Guaccero che addirittura su Instagram si è dovuta giustificare perché? Perché ha proposto nel corso di questa trasmissione abbastanza seguita un tutorial in cui c'era una donna molto avvenente che faceva vedere come si cammina sui tacchi ma soprattutto come si fa la spesa sui tacchi e lo faceva vedere a una ragazza di 21 anni che invece non era particolarmente brava a camminare con i tacchi dice che quando se li mette sta sempre seduta e questa donna sexy chiamata dalla Rai per far vedere addirittura come si può prendere un pacco di patatine nell'ultimo piano di uno scaffale dentro un supermercato insomma una cosa di altissimo livello culturale indignazione da parte di tutto il mondo troppo sessista non è da Rai non si può fare così addirittura è intervenuto l'amministratore delegato che ha detto dobbiamo rivedere tutta la programmazione del pomeriggio il programma è sospeso? no, non è sospeso togliamo la registrazione addirittura dal Rai Play la registrazione si trova facilmente su YouTube io l'ho trovata anche stamattina tutto questo inferno mentre appunto c'erano convegni in tutta Italia per rivendicare l'importanza di un'educazione al rispetto della donna e nel frattempo quel sedere si muoveva nello studio della Rai tutto questo accade nelle stesse ore in cui muore uno dei più grandi giocatori al mondo Diego Armando Maradona cominciamo a vedere su tutte le reti televisive le persone che piangono a Napoli le persone che piangono in Argentina i suoi gol fatti da un calciatore che non era alto che non era bello che non era ai tanti che non era palestrato che giocava con un solo piede ma che riusciva a fare delle cose incredibili in questo momento di celebrazione dell'uomo di sport viene fuori naturalmente che però Maradona era uno che faceva uso di cocaina era uno che era stato violento con le donne insomma era un tipaccio e che non bisognava parlare bene di lui senza naturalmente distinguere le due questioni il Maradona atleta che certo in certi momenti non è stato un buon esempio anche se poi per esempio il mio amico Bruno Pizzol ha confermato che lui gli aveva detto che non aveva mai fatto uso di sostanze stupefacenti durante tutto il periodo in cui era stato in auge come calciatore non c'è una sola persona che parla male di Maradona non c'è un suo compagno di squadra non c'è stato un calciatore italiano che ne ha parlato male però naturalmente c'è stato chi ha trovato il modo di infangarlo in queste ore in cui si stava celebrando il suo funerale insomma cattiveria su cattiveria naturalmente tornando a detto fatto non c'è piaciuto questo tutorial però ce ne freghiamo se poi va in onda una pubblicità in cui l'organo genitale femminile canta addirittura dentro una conchiglia o fuori da una conchiglia quello va bene va bene che i nostri ragazzi ormai non ricevono un'educazione sessuale a scuola o in famiglia però hanno come tutorial you porn però poi ci indigniamo per la signorina sui tacchi che ci fa vedere come prendere il pacco di patatina ci indigniamo perché Maradona ha fatto in un periodo triste tragico della sua vita uso di cocaina ma non riusciamo a celebrare fino in fondo il grande campione che è stato la sua grande generosità la sua capacità di essere accanto agli ultimi voglio solo citare una cosa molto bella che ha raccontato Edoardo Bennato l'ha scritta anche su un post su facebook ha raccontato che una sera è andata a cena con Maradona e quando è finita la cena ha voluto visitare le cucine e l'ha trovato proprio nelle cucine a distribuire dei soldi a tutte le persone che lavoravano lì dentro un gesto di grande umanità e un gesto di grande generosità Maradona nel bene e nel male era anche questo grazie a tutti Grazie a tutti